In natura non vengono con la testa dentro la mano, questi poveretti sono rinconi uniti. Io la prima volta ero bitiata a vedere, anch'io l'avevo vista una volta qua. Però quando ho visto il primo in Kenya, i leoni non sono bitiata a vedere, avevo visto altri animali. Però il leone per me è la roba più... Comunque Marzia, anche adesso è Sudafrica, sono a metà salvaggi, nel senso che quando hanno dei problemi loro vengono a intervenire. Ma dipende dai pari. Capito che sono malati e ne portano via. No, lo so, dipende, ti stavo dicendo, io sono andata a vedere anche l'ospedale per animali. L'ospedale è chiaramente aperto come un'area così, però è tutelata con i veterinari. Io ti sto parlando dell'animale in libertà, in natura.